Se ti dico Anzolo da 1 a 10 quanto ti emoziona? Quanto ti sei innamorata di Anzolo? Da 1 a 10? In passato mi ero innamorata a 10, oggi diciamo che l'amore è un po' più calato, ma sono innamorata di vedere questo amore negli occhi dei miei figli. Cioè è bello poter condividere un amore comune a costanza di così tanto tempo. Un'altra domanda è invece da questo giovane Anzolo cosa ti aspetti? Io ho una grande curiosità, perché non so quello che succederà e questo è il bello, perché devono stupirci, ci stupiranno, lo so, e mi chiedo ma come? Quindi mi aspetto il meglio. E invece quanto sei fan in generale della saga Star Wars o Guerre Stellari, visto che l'abbiamo conosciuto come Guerre Stellari? Sì, no, sicuramente lo sono diventata ancora di più grazie ai miei figli, perché loro sono pazzi per questa saga, sanno tutto, si sono rivisti più cento volte. Ecco, io così di ripetere i film, di sapere che ho fatto a memoria, non ci sono arrivata. Però la cosa che mi piace è che stasera vivremo delle emozioni insieme. Ti faccio un'ultima domanda, visto che hai detto che i tuoi figli sono emozionati, cos'è che li ha colpito in particolar modo? Penso che sia la fantasia, lo spazio, una vita così poco reale, quindi sono state affascinati dalla fantascienza. Ok, grazie, ciao! Ciao!